Grande sfondo a caratteri cinesi e un grande punto di domanda sugli interessi orientali a Trieste. Con questo argomento nel pomeriggio si è celebrato il consueto scambio di auguri da parte di Forza Italia. Giulio Camber questo dicembre non ha riservato colpi scenici a sorpresa, ma un chiaro indirizzo che il Partito Azzurro intende portare sul tavolo del sindaco. Dopo aver ricoperto di elogi il primo cittadino infatti, la richiesta è stata quella di un consiglio comunale dedicato a tre specifici argomenti, in particolare la perplessità riguardo gli interessi cinesi sui beni del territorio. Cosa bolle in pentola a Trieste? Oggi verrà consegnato al sindaco un documento firmato da tutti i nostri consiglieri comunali e assessori, dove richiamiamo l'attenzione del sindaco e richiediamo una riunione straordinaria del consiglio comunale su tre punti che secondo Forza Italia, secondo noi tutti, rappresentano i punti focali del futuro della nostra città. Il rapporto con la Repubblica Popolare Cinese pare una cosa parolone, messa al vento, una cosa serissima. Il tema dell'autonomia speciale, il tema della salute. Su queste tre tematiche è impergnato il futuro della nostra città e se vogliamo pure, diciamolo, della nostra regione. Bisogna ignorare, non approfondire, sottovalutare queste tre tematiche è criminale. Temi che l'onorevole Savino ritiene importanti al pari di un'attività politica consapevole, aspetto che non vede nelle attuali forze di governo. Bisogna avere buon senso per governare e soprattutto cultura di governo, cosa che purtroppo riscontro a Roma non c'è. Quindi al netto delle enunciazioni, al netto dei grandi titoli, dei proclami, amministrare con buon senso ed equilibrio è una cosa che non è nelle corde di questo governo. Quindi mi auguro al più presto che si possa tornare al voto e mi auguro al più presto che la Lega si renda conto con chi sta facendo questo viaggio in questo governo e che ritorni nell'alvio del centro-destra che è l'unico, in questo caso, in grado proprio di offrire alternative valide e concrete al Paese. Grazie.